Il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri all'Aquila oggi per partecipare al Consiglio regionale di UIL Abruzzo, un consiglio che arriva al termine di una mobilitazione, diamo voce al Paese Reale, con la quale il sindacato ha incontrato le rappresentanze dei vari territori abruzzesi. La sicurezza sul lavoro rimane una delle emergenze più importanti, ma il Governo non sta facendo nulla, secondo il segretario. C'è da fare moltissimo e purtroppo su questo il Governo è completamente assente. Noi abbiamo fatto un solo incontro chiedendo una serie di interventi. Il Governo continua a far finta, e la politica in genere continua a far finta, che questo problema non esiste. C'è una guerra civile in questo Paese. L'altro giorno abbiamo avuto quattro morti, lei ha richiamato l'ultimo incidente mortale. Bisogna aumentare le ispezioni, aumentare gli ispettori. E invece il Governo, con la scusa di semplificare, addirittura vuole mettere in discussione l'Istituto Nazionale che fa le verifiche. Altro tema, quello dell'autonomia differenziata. Prima vanno eliminate le esiguaglianze, dice. Poi noi abbiamo una situazione ormai consolidata di differenze, di distanze fra molte regioni. Siamo in una che ne registra tantissime. Noi continuiamo a sostenere che prima bisogna intervenire per eliminare le diseguaglianze. Ricordiamo che ci sono alcuni diritti costituzionalmente garantiti, o che dovrebbero essere costituzionalmente garantiti, che non sono garantiti allo stesso modo su tutto il territorio nazionale. Relatore del Consiglio, anche il commissario straordinario del Governo per la ZES, Mauro Miccio. Ormai è un anno che si sta lavorando. Gli investimenti sulla costa porteranno benefici anche all'area interna e sostiene. Vuol dire che le aree interne potranno beneficiare di quell'aumento del traffico merci e commerciale che ci sarà sulla costa. E gli investimenti e gli assi trasversali che vanno da Pescara, Ortona, Porto di Ortona, Porto di Vasto, Pescara, centro logistico smistamento ferroviario, attraverso l'indispensabile realizzazione della Roma Pescara, che non mi stancherò mai di ripartare che è un'opera che deve essere fatta senza se e senza ma, ci consentirà di collegarci nell'asse internazionale TNT, che va da Barcellona a Civitavecchia, Ortona, Ploce, quindi fino in Croazia, e tutto questo consentirà di collegarsi nell'altra autostrada del mare, che è quella che vanno dal Porto di Trieste fino alla punta del nostro stivale, dall'altra parte avremo la ferrovia che costeggia la triatica.